Il via libera è arrivato dal consiglio comunale di Bagnoli dopo che quello di Anguillara aveva già consentito al matrimonio dell'ufficio tecnico comunale con quello di San Martino delle Venezze. Otto voti favorevoli, due astenuti ma il risultato è che i due campanili da oggi condivideranno lo stesso ufficio tecnico per servire un'utenza di 8.000 cittadini, condividere per cercare di garantire tutti i servizi. Questo è l'obiettivo nella convenzione anche la polizia locale.